Perché una società vada bene? Si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia. Perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore. Basta che ognuno faccia il proprio dovere. Grazie per esserci nuovamente. Sono davvero contento di avere oggi con noi in collegamento Matteo Perillo, che è il Presidente del Coordinamento Provinciale della Protezione Civile di Foggia. Per noi è importante raccontare all'interno di queste pillole del coraggio di ogni giorno qual è il coraggio di chi spesso, volontariamente, dietro le quinte anche, rappresenta magari quelli che sono degli angeli per tanti cittadini, soprattutto per le persone più in difficoltà. E attraverso questo loro senso del dovere, attraverso questa responsabilità che hanno ogni giorno, cercano di aiutarci in tante situazioni. Grazie Matteo per essere con noi. Grazie a voi per avermi invitato. Io vorrei partire proprio dal periodo che è quello che abbiamo lasciato un po' alle spalle, cioè dal periodo pandemico e che ancora stiamo un po' lasciando alle spalle. Quanto è stata importante la macchina della protezione civile? Quanto è stata importante un po' la rete di volontari della provincia di Foggia, ma in generale poi di quello che è stato il ruolo dei volontari della protezione civile in tutta Italia? Beh, tanto, tantissimo e anche in maniera inaspettata. Noi non ce l'aspettavamo di dover essere così protagonisti, anche noi, dell'operatività del periodo pandemico. Ci siamo ritrovati ben presto, ben presto in piena, il primo lockdown, fra quelli a cui era consentito fare dei servizi, la distribuzione a chi era in quarantena, l'accompagnamento delle squadre speciali, la protezione civile da quel primo momento fino a poche settimane fa in cui era in prima fila negli hub vaccinali di tutta la provincia, di tutta la regione, di tutta Italia in realtà. Siamo stati impegnati su tutto il territorio nazionale e stiamo cominciando a riprendere fiato da questo grande impegno nei due anni di pandemia solo adesso. Ascolta Matteo, in realtà adesso state iniziando a riprendere un po' fiato, ma probabilmente ci sono anche tante altre emergenze, tante criticità che coinvolgono la protezione civile, i volontari della protezione civile, soprattutto nel periodo estivo, perché ci sono altre emergenze, l'abbiamo visto anche di recente nella nostra terra, che è un po' il pericolo incendi che coinvolge un po' la nostra terra durante questo periodo. Allora, perché oggi un giovane, ti chiedo soprattutto, dovrebbe dare la propria disponibilità, dovrebbe mettersi a disposizione di questa rete di generosità, perché si tratta di una rete di generosità e dare appunto il suo aiuto, mettersi a disposizione della protezione civile, delle tante associazioni della rete di protezione civile che sono presenti sul nostro territorio? Soprattutto per rendersi utile, soprattutto per poter avere, poter vivere una vita utile agli altri. È quello che noi chiediamo a tutti coloro che vogliono entrare nel nostro mondo, chiedendo anche solo un piccolo spazio o anche la loro grande disponibilità. Come dicevi bene? La mia era una semplice battuta del fiato da riprendere. Siamo pienamente entrati con questa estate in anticipata già nell'antincendio boschivo, che in Italia è uno dei compiti della protezione civile. Noi volontari siamo al fianco dei vigili del fuoco, dei carabinieri forestali e dell'ARIF per quel che riguarda la Puglia. Nello spegnimento degli incendi ci sono stati già eventi di notevole importanza nel nostro territorio e noi c'eravamo. Così come tutti i grandi eventi che adesso, grazie alla pandemia che ci sta ridando fiato come dicevo prima, ovviamente stiamo dando anche la nostra assistenza a tutta la popolazione durante questi momenti di riapertura, gli eventi estivi e ogni attività che ci sta facendo tornare alla normalità. noi ci siamo. Ecco, semplicemente diciamo ci siete come diceva spesso, come ripeteva spesso anche Falcone, semplicemente facendo il vostro dovere, facendo il vostro dovere ogni giorno e mettendovi gratuitamente a disposizione della collettività. Io davvero ti ringrazio per essere stato con noi e ti ringrazio per questa tua testimonianza e auguro soprattutto un grosso in bocca al lupo a tutta la rete della protezione civile della provincia di Foggia, ma soprattutto anche alla rete di protezione civile della PASER di Manfredonia, perché Matteo è anche il coordinatore della PASER che è l'associazione di protezione civile di Manfredonia. Stiamo vedendo anche delle immagini che la regia ci sta inviando. Grazie ancora Matteo per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a voi e ovviamente l'appello a tutti coloro che ci ascoltano e che hanno ancora qualche dubbio se fare o no questo salto alla barricata, noi vi stiamo aspettando. Diventate volontari di protezione civile. Grazie ancora Matteo, appuntamento alla prossima puntata per le pillole del coraggio di ogni giorno. Credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuare a fare senza lasciarci condizionare.